No, 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 ma che partita, ma che partita è giocato? Dove vincere, dove vincere, è Kimbotton out, è Kimbotton out, 5 a 0, 5 a 0 il primo gol dopo 36 golpi A fine primo tempo McBurnie ha espulso, doppia munizione, doppio fallo Il signor Tuggei Rodriguez che giocava 10 anni fa, 10 anni fa nel Southampton, anzi forse anche 12 Quanti cacchio ti ha di miagge, Rodriguez? 5 gol, ancora 5 gol, dopo il 5 a 0 dell'Arsenal, il 5 a 0 del Burley Con Paul Montemperlin dovevi fare 6 punti, ne fatti, 0, ciao, ciao Leverton Leverton ha vinto Sei ancora ultimo Cacciatelo Cacciatelo Da lassù, cacciatelo Cacciatelo L'hanno cacciato a Litz Quando allenava a Litz L'ha fatto retrocedere L'ha fatto retrocedere Agnorsolo L'hanno fatto fuori L'hanno fatto fuori Il Derby County l'ha fatto fuori Dove è andato? Ha fatto male Dove è andato? Ha portato la squadra a A suo massimo Il Derby County l'ha portato lui in Championship E poi ha fatto cagare Ha fatto cagare L'Hanno fatto cagare L'Hanno fatto cagare L'ha portato lui su In Mi sembra anche in Championship Ha fatto cagare Non è riuscito a portarlo In Premier League Cosa che ha fatto il loco Mielsa È un mediocre È un mediocre Un allenatore da Championship È questo Basta 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 Sheffield Ritorna Ultimo In classifica Ma che Meno male che Luton ha perso Meno male che Luton ha perso Col Prenford Questo miracolato Nel caso Se vinceva Luton Sicuramente Lo avrebbero esonerato Ma è così Non è questo Si pappo I soldi Io lo voglio fuori Lo voglio fuori 5 a 0 col Burnley Uno scontro diretto Uno scontro diretto Non giocato 3 a 1 col Burnley Settimana scorsa Sveglia Sveglia 18 gol presi Tra l'8 a 0 Col mio castro E 5 a 0 Con l'arsena Che per carità Posso starci Ma 5 a 0 Col Burnley Fatelo fuori Vi prego Fatelo fuori Like, commento, iscrizione Oddio Oddio Inferno Così Si ritorna giù Così Si ritorna giù Fatelo fuori E il Sheffield E lo Sheffield Si salverà Ne sono sicuro Vabbè